Non si tratta di un trasferimento dell'Indirizzo di Scienze Umane e Sociali dal Cobianchi al Cavalieri, ma di una chiusura. Perché? Sì, è una chiusura perché questa esperienza che dura da 40 anni, è iniziata come una sperimentazione autonoma, è stata un'esperienza arricchita lungo questi 40 anni dal contributo di numerosi docenti che ci hanno lavorato e finisce qui perché l'indirizzo che si aprirà nell'altra scuola sarà un'altra esperienza. Qui non siamo in un'aula a caso, ma è un'aula dove è partito un progetto all'avanguardia in Italia. Sì, è da due anni che è attivo questo progetto, si chiama Cobipad, in cui gli studenti lavorano utilizzando i tablet. È un'esperienza unica che è monitorata da ben due docenti universitari, siamo in contatto con l'Università Bicocca di Milano, con il professor Paolo Ferri che ci segue. Quindi è un'esperienza che ovviamente andrà a finire perché non ha prospettive. La delibera della provincia non ha messo fine alla vostra lotta, anzi si è costituito un comitato. Sì, costituiamo da oggi un comitato per non far chiudere questa esperienza dell'Iceo delle Scienze Umane all'Istituto Cobianchi. Il comitato è composto da noi, da altri insegnanti della nostra scuola, da genitori, da ex studenti, da studenti maggiorenni che vorranno aderire. Ricordo ancora una volta che noi abbiamo raccolto più di 2.500-3.000 firme tra petizione online e petizione di carta perché è evidente che c'è un interesse intorno a questa questione. Il comitato è aperto a chi volesse unirsi? Sì, chi volesse unirsi abbiamo una pagina Facebook che è Liceo delle Scienze Umane IIS Cobianchi, Istituto di Istruzione Superiore Cobianchi e abbiamo una mail Liceo delle Scienze Umane chiocciolagmail.com quindi tutti sono benvenuti. Vi rivolgete anche ai candidati sindaco di Verbagna perché, e anzi promuoverete anche un incontro pubblico. Sì, vogliamo appunto promuovere un incontro pubblico in maniera tale che si possa capire qual è l'idea di scuola che i candidati sindaci hanno. Dal momento che c'è una questione concreta e cioè la gestione degli edifici scolastici che fino ad oggi sono in capo alla provincia e che però con la nuova situazione amministrativa saranno in capo al comune o ai consorzi di comuni. Per esempio, per la nostra questione, noi sappiamo che ci sono spazi negli edifici comunali per far fronte alla situazione Cobianchi. Noi vogliamo sapere dai candidati sindaci quale responsabilità si sentono di assumere rispetto alla gestione degli spazi.